Il rombo dei motori Porsche ha accompagnato l'arrivo a Pistoia del primo gruppo organizzato di turisti dall'inizio dell'emergenza Covid. Nelle ultime settimane, terminato il lockdown, si erano viste solo persone in piccolissimi gruppi, arrivati autonomamente in città. L'iniziativa è stata del Registro Italiano 911-912 del Porsche Club, che ha riunito oltre 20 appassionati della casa motoristica tedesca per una visita a Pistoia, dal centro storico di Vivae, per arrivare quindi a toccare anche la montagna. Abbiamo deciso di organizzare un evento per far conoscere questa realtà a molti sconosciuta. Oggi ci sono partecipanti che vengono da Verona, da Caserta, da Bologna, da Ferrara, perché il Registro è una realtà a livello nazionale, quindi tutti i soci appartengono al territorio italiano. Quindi sarà una scoperta per loro, voglio fargli scoprire Pistoia, che ha tante cose belle che molti non sanno neppure. Un'immersione a 360 gradi nelle bellezze storico, artistiche e naturalistiche della città e dei suoi intorni, accompagnati dalle guide del centro, guide turismo, nata dall'idea del pistoiese Maurizio Giannini, che fa parte del Porsche Club. Per ora vedo che è da ieri che ci sono, sono contenti. Siamo stati alla Nursery Campus, dal Vannucci, stamani mattina. Oggi siamo a Villa Giorgia, siamo qui a visitare la città. Credo che anche per Pistoia sia abbastanza bello, perché tutto sommato ho amici che vengono da Caserta, da Roma, da Milano, da Ferrara, insomma, da Bologna. Vicini pochissimi. Dopo i turisti da soli, ora il primo gruppo. Che vuol dire questa presenza? È una bella emozione, è una bella speranza, sinceramente. Fino ad ora abbiamo avuto singoli, famiglie, tutti benvenuti, ma insomma il fatto di ricominciare ad avere gruppi ci fa sperare. Via, speriamo, speriamo davvero. Che Pistoia attragga proprio perché è una città più tranquilla, dove in genere non c'è folla, non c'è calca e quindi speriamo che paghi proprio questo suo carattere un po' defilato.